eccolo ma chi è questo buonasera non è il buon fabio no è il buon alessandro il buon alessandro te sei trasformato senti c'è sta un'altra persona dietro che non si vede trama nel non si vede trama nell'ombra perché non vuole essere ripreso ecco ha fatto vedere con la manina e di che dobbiamo parlare della cessione de bia alla lazio al milan al milan ragazzi miei al milan il milan ha comprato un altro giocatore di quelli esagerati un bel centrocampista ma praticamente al azion c'ha più cioè sia al azio al milan al azion c'ha più nessuno sì ma al milan praticamente per dieci undicesimi sono giocatori completamente diversi la squadra è tutta nuova è tutta praticamente nuova e domani si potrebbe addirittura ufficializzare bonucci è vero ho sentito pure bonucci non lo sapete l'hai sentito per così per grandi linee sembrava una stronzata del sport mediaset e invece la trattativa in corso ma che ne pensi testo luca sbiglia che cosa che cosa potrebbe fare al milan delle montella del futuro della prossima stagione beh non c'ha non c'è il milan non c'ha registri nel centro campo è biglia oddio montolivo in teoria è un regista però ultimamente montolino è lento è lento come la merda c'è solo c'è solo la la lentezza di un regista però c'è i piedi c'è tu fa ridere come sapevo io guarda secondo me a livello di impostazione non è male questo dietro ride a livello di impostazione non è male tipo di agomotto non si è mai capito come riuscire a diventare titolare della nazionale c'è riuscito mannaggia quel porco no a parte scherzi ma che dici ma che dici l'hanno raccomandato dici non disse cose perché guarda vabbè comunque sia secondo me biglia al milan potrebbe aiutarli e non poco ma soprattutto con quel che sia centrocampo che giocherà titolare e sarà affiancato da chi buonaventura come terzo di centrocampo buonaventura su euro spot lo dava metteva una formazione nel terzetto di attacco in realtà no non credo anche perché quest'anno poi giocare andresilva no c'hai anoglu andresilva c'hai anoglu lo metteva al centrocampo dipende con che giocherà a montella se giocherà con la difesa a tre o col centrocampo no centrocampo è sempre a quattro però difesa a tre oppure attacco a tre no attacco a tre per forza che cazzo perché ocampo comunque ocampos è ritornato no ma ocampos non giocherà de lofeu no sono ritornato è tornato a marsiglia ocampos poi e dove l'hai sentito non mi pare di averlo letto è rientrato dal prestito vabbè quindi non ce sta de lofeu è tornato all'everton e poi se lo vuole comprare il barcellona no mi sa che se lo già no già l'ha preso il barcellona vabbè ma quello non ce ne può fregare di meno e quindi secondo te biglia sarà fondamentale ma soprattutto la lazio senza biglia che cosa fa chi prenderà come sostituto qualcuno te li prende vabbè i soldi c'è un buono gli mancano i soldi non gli mancano ma lo dite un caccia una lira è quello il problema quello è un grande problema no beh comunque ha ceduto pure ha ceduto pure ha ceduto pule poli al centrocampo il milano ha ceduto ma io perché non mi ricordo poi è andato a bologna ma è successo ieri o l'altro ieri un paio di giorni fa una quindicina di giorni fa una quindicina di giorni fa ma te credo sta a comprare il mondo che si quello quell'altro quell'altro la madonna è ovvio che che questo è una opzione pure per me te se prendono ma quanto te danno all'anno di la verità faccio il porno divo fai il porno divo al milan lo appizzi ai giocatori prima delle partite scommetto vero e con sta faccia guardate che faccia cioè secondo voi uno non fare gesti che potrebbero demonetizzarmi il video e youtube mi potrebbe chiudere proprio il canale ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti di questa situazione bambini non guardate questo no guarda che lo guarderanno anche i bambini questo è un grande problema però quella mano poteva bussare la porta quello che sto bussando alla porta del milan per richiedere i soldi ok va bene se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ci fate sapere che cosa ne pensate dei bigli al milan che ha fatto un altro colpaccio e domani ne potrebbe ufficializzare un altro ti dico l'ultima cosa e poi chiudiamo il video ma lo sai perché il milano sta a fare operazioni così veloci dei sotterfugio per la mafia cinese non c'entra niente la mafia cinese perché domani partono un tourne e vogliono tutti i giocatori no 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 ancora con questi discorsi annaggia miseria vabbè bella rega saluti ecco ciao